L'Atletico Gela confida nei cugini del Macchitella che oggi pomeriggio al Presti riceveranno la visita dalla capolista Sicula Leonzio. Una battuta d'arresto dei bianconeri aprirebbe scenari importanti per la formazione allenata da Simone Pardo. I gelorossi infatti inseguono a due sole lunghezze dai siracusani. Ecco perché oggi, sugli spalti dello stadio di Contrada Giardinelli, anche i tesserati dell'Atletico Gela faranno il tifo per la squadra allenata da Mirko Fauciana. Ma i ragazzi del club, tanto caro al presidente Cristiano Paradiso, domani devono assolutamente battere sempre al palestino l'Atletico Catania, altrimenti parliamo del nulla. Già in settimana il tecnico Pardo ha detto che l'impegno previsto contro gli Etnei non è assolutamente facile. Anzi, è pur vero che in gradatoria l'Atletico Catania accusa un ritardo di ben 13 punti dalla compagine gelorossa, stazionando a metà classifica. Ma è altrettanto vero che nessuno è disposto a lasciare punti per strada. E questo lo sanno bene i gelorossi. Ricordiamo il pareggio qualche settimana dietro, conseguito da Brancacci e Soci in casa del faralino di coda a Pacchino, terra di conquista per tutti, tranne che per i gelesi. Un pareggio che non è stato mai digerito dall'Atletico Gela. I gelesi domani si presenteranno all'appuntamento forti dello successo conquistato nel derby contro i Cugini del Gela. Un 3-1 che non ammette repliche. Proprio il Gela di Totò Bruculeri domani sarà di scena a Pacchino. Sulla carta l'impegno è facile, ma come abbiamo appena detto i siracusani tra le muramiche si trasformano. Dunque una partita il cui risultato non è assolutamente scontato. Il tecnico Biancazzurro dovrà fare a meno del difensore Chiavaro e del centrocampista Messana, entrambi squalificati per un turno. Sarà regolarmente al suo posto l'attaccante Genova. In questi ultimi giorni si era detto che il capo cannoniere avrebbe lasciato il Gela. Nulla di tutto questo. Dopo i due cappò consecutivi, Santa Croce ed Atletico Gela, entrambi in casa, adesso è giunto il momento di resettare e di ricominciare a conquistare punti pesanti. Lo impone il blasone del Gela e la classifica attualmente è deficitaria per una squadra, così come riferito dagli addetti ai lavori, costruita per il salto di categoria.